A larghissima maggioranza, con oltre 20 voti favorevoli, 3 contrari e 3 assenuti, passa il rendiconto al Comune di Sernia. Soddisfatto il consigliere delegato al bilancio, Giampiero Mancini. La maggioranza ha dimostrato solidità e compattezza, ha dichiarato nel suo intervento in aula. Ciò premia gli sforzi dell'amministrazione. Considerate le innumerevoli problematiche risolte, il rendiconto gli viene un passo importante nella direzione che c'eravamo prefissati all'inizio del mandato. Abbiamo appostato risorse dove ce n'era assoluta necessità. Penso ai lavori di completamento del parco della stazione, piuttosto che alle somme destinate all'ex quinto settore, all'ex centranziani, quindi il completamento dei poli scolastici, la realizzazione di quasi un chilometro e mezzo di rete metanifera, piuttosto che la manutenzione dello stadio Lancellotta e l'appalto dei lavori del palazzetto dello sport, la torre faro all'antistadio, tutti i progetti del sociale che abbiamo finanziato e abbiamo sostenuto. Queste e tante altre attività, la villa comunale, ce ne sono davvero tanti e tutto questo è stato possibile grazie alla lotta all'evasione. L'austerity alle spalle si può finalmente programmare? Diciamo che noi siamo molto fiduciosi. Questo sarà un momento importante perché oltre superata la fase dell'accertamento di bilancio, arriva la fase della riscossione, quindi la riscossione coattiva ci darà il segnale, sarà la cartina al tornasole per vedere se la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta. Di tutt'altro avviso il consigliere di Alleanza per il Futuro, Giovan Carmine Mancini, il quale ha invitato da Pollonio a prendere atto del fatto che i partiti tradizionali di centrodestra sono in minoranza. Alleanza per il Futuro e Forza Italia hanno votato contro il rendiconto. La Lega si è astenuta. Il dato politico che c'è un centrodestra a Queiso, che è rappresentato da Forza Italia, da Alleanza per il Futuro, che il movimento politico è con l'onore di rappresentare, a livello nazionale, regionale e locale, e la Lega, cioè il vero centrodestra, il centrodestra reale, che governa o è all'opposizione in tutta Italia, per di più governa, non è in maggioranza. La maggioranza è composta da un fritto misto, che continua a far friggere appunto la città di Sernia e con essa i cittadini di Sernia, e che deve andare al più presto a casa, dove c'è di tutto, ma non c'è il centrodestra. Perché il dato politico, con la dichiarazione del capogruppo della Lega a testa, con la dichiarazione del capogruppo di Forza Italia, Reimondo Fabrizio, e con i miei interventi reiterati in aule, è all'opposizione. Questo è un dato di fatto. Quindi non si dica fra due anni che ha governato il centrodestra. Il centrodestra non ha governato i sei. Il centrodestra lo governerà fra due anni, se non prima, come mi auguro, in futuro. Sia chiaro questo, insomma. Noi non centriamo nulla con quello che stanno facendo loro. Anzi, rimarchiamo la nostra assoluta distanza e la nostra ferma opposizione.